Amici sportivi un cordiale saluto, apriamo con il calcio, con il campionato di Serie C, la lucchese che vince sul campo della Gianna Erminio, tornano anche le speranze di playoff. Salvezza in saccoccia, manca solo il conforto della matematica, ma era solo una formalità. La lucchese torna dalla Lombardia rinfrancata e col morale certamente giusto per affrontare gli scampoli di campionato. Al città di Gorgonzola, la squadra di Lopez, ancora in tribuna per la bennotta squalifica, ha giocato prima un match a corto e concentrato, reggendo alle sfuriate iniziali della Gianna di Albè e poi pungendo e punendo i padroni di casa nel momento giusto. Stavolta Fanucchi non è andato a segno, ma è ugualmente distribuito l'ampi di genio, come solo lui sa fare. Ad esempio, sulla rete del vantaggio ha tenuto e gestito il pallone da maestro prima di affidarlo al chirurgico sinistro di Riccardo Baroni, che ha potuto così festeggiare la prima rete tra i professionisti. Il raddoppio in avvio di ripresa l'ha siglato invece Luca Cecchini, l'eroe di Pisa, che non si è fatto pregare per indirizzare la partita sui binari giusti. Per il resto, la Pantera ha mostrato gli artigli e la rabbia giusta, evitando sbadataggini che nel corso di questo campionato così tribolato sono state fatali. Seppur con tutte le difficoltà che ormai conosciamo, questa lucchese era comunque una squadra da stare tranquillamente tra l'ottavo e il decimo posto. Ed invece ancora, non sappiamo se sarà così. Tre giornate alla fine, ma solo due partite da giocare per le specie e compagni, entrabbe però in casa contro l'Olbia, sabato prossimo, e il proprio Cenza il 5 maggio. Facendo bottino pieno, la lucchese potrebbe anche farcela, conquistare almeno l'undicesimo posto, l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. E visto l'andazzo di tutto il campionato, sarebbe davvero un ottimo risultato e una grande soddisfazione per Lopez e tutto il suo staff tecnico. Vediamo il quadro completo della 35esima giornata. Gianni Arminio Lucchese 0 a 2, Olbia Prato 1 a 1, Pistoiese Arzachen 1 a 0, Propiacenza Gavorrano 1 a 2, Livorno Pisa 2 a 0, Arezzo Siena 1 a 0, Pontedera Carrarese 1 a 1, Alessandria Piacenza 1 a 1, Cuneo Viterbesi 1 a 0, riposava al Monza. In classifica il Livorno ritorna in testa con 63 punti, Siena 61, Pisa 58 per le primissime posizioni. La Lucchese sale a quota 41, ormai è salva ed è un solo punto dall'undicesima, che è la Pistoiese. Vediamo anche i risultati della Serie D. 31esima giornata, Albissola Lavagnese 2 a 1, Ligorna Argentina 4 a 0, Realforte Rignanese 1 a 1, Sandonato Tavarnelle Seravezza 0 a 0, Scandicci Ponsacco 0 a 1, Sestri Levante Savona 0 a 2, Unione Sanremo Ghivi Borgo 1 a 0, Valdinievole Montecatini Massese 0 a 3, Viareggio finale Ligure 2 a 0. Albissola 60 punti, Ponsacco 59, Sanremo 58, quindi grande lotta fra le prime tre per la vittoria finale. Realforte e Viareggio sono a 53, Seravezza a 48, Il Ghivi Borgo a 42. Rimaniamo in Serie D perché danni alla sala stampa dello Stadio dei Pini di Viareggio, come vediamo adesso dalla foto, divelte, prese elettriche e wifi. La spiacevole scoperta è stata fatta poco prima della partita, appunto in programma allo Stadio dei Pini, tra Viareggio e finale Ligure. Eccellenza, 29esima giornata, Cenai Urbino Taccola 1 a 0, Castelfiorentino Poggi Bonsi 3 a 2, Fucecchio San Marco Avenza 4 a 1, Grossetto Cuoio Pelli 1 a 1, Larcianese Ponte Bugianese 0 a 1, La Portuale Piombino 1 a 0, San Mignato Castelnuovo 0 a 0, San Gimignano Gambassi 2 a 0. A una giornata dalla fine, Cuoio Pelli e San Gimignano sono a Braccetto a 65 punti, Grossetto 56, Poggi Bonsi 49, troviamo il Castelnuovo a 34 punti, fuori dalla zona play-out, se giallo-blu vincono l'ultima in casa, domenica prossima sono matematicamente, sono salvi, evitano qualsiasi complicazione. Promozione, qui siamo ancora a tre giornate dalla fine, in questi altri campionati, Scamaiore Calenzano 0 a 0, Candeglia Sagginale 1 a 2, Lampo Maliseti 2 a 2, Luco Folgor Marlia 1 a 0, Pietrasanta Villa Basilica 3 a 0, Pontremolese Ceretese 3 a 1, Vaianese-Lammari 2 a 4 e poi c'è la clamorosa sconfitta della capolista Vorno, Vorno-Quarrata 1 a 4. Nonostante questo, il Vorno rimane al comando con 51 punti, Camaiore 50, Pietrasanta 48, e saranno presumibilmente queste tre squadre ormai a giocarsi la promozione, il Lammari a 41 entra in zona play-off, poi troviamo il Villa Basilica 36, la Folgor Mare invece invischiata nella lotta per non retrocedere con 29 punti. Prima categoria, Girone A, Acqua Calda Pontigiana 1 a 1, Don Bosco Fossone Gorfigliano 0 a 2, Sextum River Pieve 1 a 1, Marginone Pontamoriano 0 a 1, Pieve Fosciana Sericciolo 3 a 0, Apuania Romagnano Fornoli 1 a 1, Tau Calcio Capezzano Piano Re 1 a 1, Tirenia Sporting Bozzano 2 a 3, Pieve Fosciana che allunga 51 punti, Pontigiana 48, Sporting Bozzano 47, Tau Calcio 45, sempre per le prime posizioni. Vediamo anche due gironi di seconda categoria, cominciando dal girone A, Corsanico Filvilla 1 a 1, Lido Di Camaiore Fortis Camaiore 3 a 1, Migliarino Fivizzanese 2 a 2, Monti Filattirese 3 a 2, Monzoni Unichiesa Massaciuccoli 1 a 1, Ricortola Forte 2015 0 a 0, Torrelaghese Versilia Calcio, era il testa coda sospesa, Unione Montignosa Cimarmi 1 a 1, Torrelaghese 66 punti, già promossa in prima categoria, a Cimarmi e Forte De Marmi 2015 50, Fivizzanese 41, Fortis Camaiore, Filattirese, Corsanico e Monti, Lido Di Camaiore 39 punti. Chiudiamo con la seconda categoria, girone C, Atletico Lucca Molazzana 0 a 0, Barga Sporting Calci 0 a 2, Corsania Lucca 7 2 a 0, Lucca Calcio Aquila 2 a 3, Montagna Pistoiese Ponte Cosi 2 a 2, Orientano Lacella 4 a 0, San Filippo Pieve San Paolo 2 a 0, Piazza Serchio San Giuliano 3 a 1, Orientano che si avvicina alla promozione, 61 punti, ne ha 6 di vantaggio sull'Atletico Lucca 55, poi Sporting Calci 54, Molazzana 51. Rimaniamo in tema di calcio direttantistico perché sabato il Vagli ha festeggiato la promozione in seconda categoria. La festa si consuma sul prato del campo sportivo di Villa Colemandina, dove il Vagli, sul cassa 4 a 0, il malcapitato Coreglia, conquista con 90 minuti di anticipo la matematica promozione in seconda categoria. Una doppietta di Chiriacò, Rossi e Pellegrinetti, sul tabellino della squadra allenata da Bigeri, assoluta protagonista e dominatrice del girone B. Un torneo che ha visto la compagine Vaglina guidare la classifica fin dalle prime battute e chiudere il discorso sabato grazie a 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici Borgo Ammozzano e Morianese. A fine gara emerge la grande soddisfazione di tutto l'ambiente Vaglino per questo storico risultato. Soddisfattissimo perché abbiamo dominato il campionato dalla prima all'ultima partita, siamo stati i primi in classifica. Quindi più soddisfatti di così non potremmo essere. Io credo che il Vagli è Vagli e sono orgogliosa di essere una Vaglina. Forza Vagli! Ora a promozione acquisita si spera che ben presto il Vagli possa giocare a Vagli sul proprio campo. Speriamo nel sindaco che ci faccia il campo sportivo, possiamo giocare a casa nostra e poi fare un buon campionato di seconda categoria, salvarci tranquillamente e impostare le vasi per diventare una società strutturata. Il problema grosso è non riusciamo ancora a essere società forte, siamo pochi, sono giovani, a parte io e pochi altri, gli altri sono molto giovani, per cui abbiamo bisogno di aiuto. Aiuto da parte del Paese, aiuto da parte dell'amministrazione comunale, solo così potremo dare un futuro al calcio a Vagli. Un Presidente! C'è solo un Presidente! Festeggia il Vagli, festeggia anche la bionatura Nottorini-Capannori nel campionato di B2 femminile di volley. La squadra di coach Becheroni ha vinto 3-1 il big match, la partita decisiva a Forlì, 25-23, 25-18, 23-25, 25-21, confermandosi nettamente la squadra più forte. Naturalmente su questa ennesima conferma della forza della Nottorini, torneremo nelle prossime edizioni del Tigino e Sport. È calato il sipario sulla regular season del campionato maschile di C-Gold di basket, la Genova Centro Minibasket Lucca di Coach Piazza è stata battuta a Montale, 103-86, e curiosamente ritroverà proprio il Montale nei play-off. Ultima partita per il Bama al Topascio, che aveva già acquisito la salvezza, battuto nettamente 74-52 a Ponte d'Era. E siamo all'Oche, dove invece siamo ormai al livello delle semifinali, mancava l'ultima finalista, vediamo come è andata per il Forte De Marmi. L'Hockey Forte De Marmi supera in gara 3 dei quarti di finale il Valdagno 4-2 di fronte al pubblico amico e accede alle semifinali del campionato di hockey su pista martedì a fronte in trasferta il Breganze nella prima delle 5 partite. Primo tempo 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di De Oro. La ripresa inizia con la parata di Cune Gatti su Rossi, ma poi c'è il pareggio del Valdagno in contropiede quando Tataranni serve l'ex di turno Montivelo che non fallisce la rete. All'undicesimo Pagnini trasforma il tiro diretto assegnato per l'espulsione di Montivelo per i padroni di casa. Poi Cune Gatti si infortuna con Gonzalo Romero al quattordicesimo che segnala la distanza. Il doppio vantaggio del rosso-blu dura appena due secondi. Espulso Gonzalo Romero Gnata para il tiro diretto di Tataranni e accorcia poi Palla resta al sedicesimo. Tre minuti dopo viene espulso Gonzalo Romero e Gnata para il tiro diretto di Farisa. A 30 secondi dalla conclusione della partita Vanzo toglie il portiere senza esito anzi torna a recuperare Palla e segnare a un secondo dalla conclusione come era avvenuto in gara 2. Quindi successo seppure un po' a fatica dei rosso-blu martedì torna in pista anche il centro giovani calciatori ospitando alla Parabarsacchi in Lodi. Chiudiamo con i motori un 65esimo rally di Sanremo davvero esaltante per Paolo Andreucci capace di concedere soltanto nel finale qualche secondo a Campedelli. Andreucci si è portato a casa così il suo sesto rally di Sanremo pensate il quarto consecutivo andando così a battere nella classifica di edizioni vinte di fila due nomi direi non da poco come quelli di Miki Biasion e Gilles Panizzi. Buon quarto Andrea Nucita mentre rigoliamo sul podio sono saliti anche Simone Campedelli secondo Umberto Scandola terzo. Nucita il pilota siciliano sempre molto veloce in classifica generale adesso Ucci viaggia a punteggio pieno e nel prossimo appuntamento dal 3 al 5 maggio la 102esima Targa Florio cercherà di concedere un clamoroso triste tra i piloti lucchesi da registrare il ritiro di Rudy Michelini ottavo assoluto un buon Luca Panzani tredicesimo Federico Santini ventunesimo il giovane Cristopher Lucchesi e ventottesimo per la Suzuki Swift sulla Suzuki Swift Stefano Martinelli naturalmente su questo ennesimo successo di Paolo Andreucci torneremo anche in questo caso nelle prossime edizioni del TG Noi Sport è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte grazie a tutti grazie a tutti